Le associazioni degli imprenditori balneari assicurano che con l'emendamento presentato all'interno del decreto sviluppo in discussione in commissione al Senato, con il quale si prevede l'estensione delle concessioni demaniali attualmente in vigore sino al 31 dicembre del 2045, lo Stato italiano si salverà da un contezioso colossale da parte dei titolari degli stabilimenti balneari. E anche il rischio che l'Europa possa multare l'Italia per non aver dato nuove regole al settore entro il 31 dicembre del 2015, a giudizio delle associazioni dei balneari, non esiste. Del resto, con l'emendamento bipartisan presentato in commissione, la cui approvazione è attesa per lunedì, cantano vittorie ai titolari degli stabilimenti balneari. Non ci saranno gare per l'assegnazione delle concessioni e quello che esiste, l'IDI, con tanto di chioschi e ristoranti, rimarrà tale per altri 30 anni. Nonostante la contrarietà del governo, che puntava a liberalizzare il settore con bandi di gara che prevedessero concessioni da 6 a 25 anni, indennizzo all'operatore uscente per gli investimenti fatti, gare in cui le esperienze e la professionalità acquisite nell'aria contassero un 40% in più nella valutazione finale. Il probabile lieto fine per il sindacato italiano balneari è quasi certo, prolungamento delle concessioni sino al 2045 e le associazioni di categoria, le cui pressioni sul Parlamento hanno avuto la meglio, assicurano. Lo Stato italiano ha evitato di andare incontro ad un colossale contenzioso e dall'Europa non arriverà nessuna multa, anche se c'è chi nel governo non la pensa alla stessa maniera.